Classica serata no per l'Hockey Club Olzano che ieri sera è stato battuto dal Klagenfurt con un sonoro 4-0. Sconfitta amarissima visto che i Foxes hanno perso il quinto posto in classifica e ora sono avvicinati pericolosamente dai Vienna Capitals. Partita tutta in salita per i biancorossi che già nella prima frazione hanno subito tre reti. Dopo soli cinque minuti di gioco è andato a segno Setzinger. La reazione dei ragazzi di coach Tom Pockel non è arrivata e hanno subito il colpo del capo prima con Capstad e poi ancora con Jacques. 3-0 la prima frazione parziale e durissimo per i Foxes che non sono riusciti mai a entrare in partita. Il secondo tempo è ancora di marca austriaca ed è proprio De Santis a chiudere il match. L'estremo difensore biancorosso Hubl lascia spazio per la prima volta in questa stagione a Daniel Morandel sintomo che la partita è chiusa anzitempo. Il terzo e ultimo dritto è il scivola via senza tante emozioni. Nemmeno Fleming, Polastrone e Vaz riescono nell'impresa a disegnare il gol della bandiera. La gara termina dunque 4-0 a favore del Klagenfurt e per i biancorossi è tempo di grandi riflessioni in vista proprio del prossimo impegno il primo gennaio contro il Villach.